Allora Tonon, devi dire la verità, ti stanno rompendo le scatole questi ragazzi o ti fa piacere? Dillo, dillo, dillo. Fammi sentire. Devi smettere di seguirmi, tu la devi smettere. Ci hanno, sì, sono rimproverato perché non potremmo cantare. Qui all'Act Italino si può cantare? No, dillo, dillo, dillo. Allora, ci hanno rimproverato perché stavamo cantando e davamo fastidio, però se c'è autorità te ne cantiamo. Va bene, dopo ti chiamiamo e portiamo a Sanremo, non ti preoccupare. Devi smettere di seguirmi. Allora, io vivo da solo, sono una persona sola. Scusami, ancora, ancora, c'è Tonon che sta parlando, silenzio! Come ti chiami? Ludovica. Ludovica, di dove sei? Di Sora, provincia di Fresinone. Di Fresinone, quanti anni hai? 15. Venite qua, venite qua, le femmine, venite qua. Per piacere. Venite tutti, vai. Allora, quando trovo delle persone simpatiche, spassose che mi tengono compagnia, mi fa piacere Napoletano. Napoletano. Mettiamoci vicino, mettiamoci vicino. Vai, vicino, vicino. Vai, vai. Allora, le donne si alzassero, venite qua vicino a Tonon. Perché ad Act Italy tutto è reale, vieni qua, anche tu. Scusa, toccali il braccio, è reale anche lei. Vieni, vieni, vicino. Ma che sono i fantasmi? Allora, al mio tre ragazze e tu ti abbracciare Tonon. Uno, due, tre, via! Vai! T'hanno sfasciato, eh? Così impari. Eh, eh. Brava, senti, ma come hai fatto a domandare al papà di portarti a Act Italy? Di, cosa gli hai detto? In realtà io l'ho detto. Dimmi proprio le frasi, eh? Le frasi, di, papà. Papà, c'è questo concorso e devo assolutamente partecipare, quindi scrivimi subito perché non voglio aspettare. Brava, Ah, hai visto? Stavi mangiando gelato? Sì, ma l'ho finita. Ma sei contenta? Contenti. Come mai? È bellissimo essere qui al Teatro Pavioli con tutta questa gente, con te che mi intervisti, molto carino. Cosa hai fatto? Niente, adesso dopo, prima di avermi mangiato gelato, ho seguito un po' di incontri, mi è piaciuto molto quello di Sorrentino, soprattutto per il doppiaggio, perché mi piacerebbe anche intraprendere questa carriera. Eh, ormai stiamo, anzi, ho cantante, attrice, ho voluto fare tutto perché è una cosa che mi piace molto e domani sapremo come andrà a finire. Comunque siamo tutti bravissimi. Brava, brava. Tra mille e più che eravamo ci ha detto, ci siamo arrivati a 150, per cui vuol dire che siamo proprio i migliori d'Italia. Ecco, se non ci vedrà come andrà. Beh, beh, è bella spigliata la ragazza, eh? Lei è la mamma di chi? Di Gianluca Cirillo. E comunque anche io sono tra i ragazzi di Act, quindi... Anche lei è... Un po' più grande, ma comunque... Ha fatto prosa lei? Musicals, molto, ho cambiato. Brava. Devo dire che è molto divertente e ci si sente a casa, veramente bellissimo. Dice che le fanno pagare anche i lici qua, è vero? No, no. Da casa. Comunque ci si diverte molto e siamo veramente tanto bravi, nel senso... Cioè, è una famiglia, vogliamo dirlo chiaro? Eh, ciao. Qui è una... Si faccia un po' più vicino, sì, è una più vicina a me. Ciao, ciao. Salutiamo a Fioretta Mari. Ciao Fioretta. A Manuela. Ciao Manuela. Tutta l'organizzazione di Act Italy. Saluto tutta l'organizzazione di Act. Ciao. Ciao, arrivederci. Allora, siamo in compagnia di Cristian. Cristian, sei stato bravissimo. Sei un professionista già all'età di 12 anni, se non sbaglio. Hai fatto un pezzo meraviglioso. Ti sei saputo muovere sul palco. Io personalmente ti faccio i miei complimenti. Poi, e quindi ti auguro più grande successo indipendentemente da Act. Però, certo, che riuscire a vincere Act sarebbe, eh? Saresti felice. Cosa hai da dire di questa esperienza? Sì, innanzitutto grazie per i complimenti. Comunque Act è stata un'esperienza bellissima per me. È già stata una vittoria stare qui tra 150 su molta gente da selezionare. Senti, parlaci del tuo pezzo. Un pezzo che hai fatto, anzi, dici due battute, eh? Ricordiamolo un attimo. Un pezzo che preferisci di più. Vai. Eh, diciamo che sono stato vietato dalla signora Fioretta perché mi ha detto che non posso esibirmi almeno che non sto sul palco. Ah, addirittura. Vedi le star. Ah, quindi non lo possiamo fare perché dobbiamo seguire le regole. Bravo. Questo bambino è già, anzi ragazzino perché sei già grande. Senti, ma come ti è nata questa passione per la comicità? Di. Eh, io già quando ero piccolo verso l'età di... Adesso è grande, eh? No. Tre anni fa. Verso l'età di nove anni, dato che imitavo un po' i familiari. Ah, hai cominciato con papà e la mamma, gli zii, i cugini. No, nonna. Nonna. Diciamo la mimica di mia nonna. Almeno quella la puoi fare? Sì, sì. Vai, puoi fare la nonna. Nonna, questo è per te. Nonna quando sta col cellulare, no? E non vede molto bene, quindi fa... E quindi hai cominciato con la nonna? Sì, ho incominciato. E ti sei sentito dentro... Fatti un po' più in qua, vieni. E ti sei sentito un po' questa passione... Sì, ho sempre... Da poi mi sono iscritto alla scuola di recitazione proprio prima di Enrico Brignano. E... Professionista qui, eh? Complimenti, signora. C'è la mamma dietro e il papà che sta tenendo la telecamera. E quindi? E poi da lì io... A me mi è piaciuto molto recitazione. E hai cominciato. E ho incominciato. Senti, lo consigli Act Italy, di. Io consiglio Act Italy perché... Io consiglio Act Italy perché è un'esperienza bellissima, soprattutto mi è piaciuto stare in stretto contatto con gente veramente importante. È già grande, eh? Sì. Bravo, è già grande. Vai bene a scuola? Io sì. Ce l'hai fidanzata? No. Bravo. Ne avrai tante quando sei grande. Saluta Act Italy, grazie Fioretta Mari. Un saluto da Act Italy, grazie Fioretta. Fioretta, Manuela. Fioretta, Manuela. Mamma e papà. Mamma, papà e Manuela. Tutti quanti. Grazie di esistere. Mamma e papà. Grazie di esistere. Vi voglio bene, I love you. Vi voglio bene, I love you. Ciao. 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 Ciao, Franco, qui stai, dimmi, stai, che vuoi stare, questo è Act. Capisci che ti dico, guarda, capisci, mi, reagisci, mi, questo è Act Italy. Capisci che ti ho detto questa rita, maledetta. Ciao, Manuela, metri. Ciao, Fioretta. Ciao, Fioretta.